Installare l'ID Plus Trainer 2 è facile. Ecco gli articoli in dotazione con il Trainer 2. Gli elettrodi CPRD Training Pads, la documentazione, il Trainer 2 con il suo telecomando e le batterie. Rimuovere il telecomando dalla custodia che si trova sotto la maniglia del Trainer 2. Installare le quattro batterie D e le due batterie AA fornite con il Trainer 2. Far scorrere lo sportello del vano batteria del telecomando e installare le due batterie AA. Assicurarsi che il polo negativo di ogni batteria sia a contatto della molla in ogni porta batteria. Richiudere poi lo sportello del vano batterie. Per essere certi che il telecomando funzioni, premere una volta sola il tasto centrale nella parte sopra la linea orizzontale nel telecomando, chiamato tasto di visualizzazione e conferma, delle impostazioni iniziali. Due luci verdi si accendono per circa otto secondi e poi si spengono. Aprire lo sportellino del vano batterie del Trainer 2 e installare le quattro batterie D, come indicato sul fondo dello scomparto batterie. Anche in questo caso, assicurarsi che i poli negativi di ogni coppia di batterie siano a contatto con le rispettive molle all'interno del comparto batterie. Richiudere lo sportellino del vano batterie. Per essere certi che il Trainer 2 funzioni, premere il pulsante ON-OFF. La luce rossa dell'indicatore di stato lampeggia una sola volta e poi rimane accesa la luce verde dell'indicatore di stato. Per spegnere l'unità, tenete premuto il pulsante di accensione ON-OFF. Le batterie forniranno l'energia sufficiente per sostenere circa 100 ore di formazione. Se il Trainer 2 dovesse segnalare la necessità di cambiare le batterie, bisogna installare le nuove batterie entro un'ora. Continuare l'installazione del Trainer 2 rimuovendo gli elettrodi CPRD Training Pads che vengono dati in dotazione. Aprire la scatola e rimuovere gli elettrodi e i gel adesivi per gli elettrodi CPRD Training. Aprire la confezione ed estrarre gli elettrodi. Far aderire i gel adesivi per gli elettrodi CPRD Training. Rimuovere il coperchio del Trainer 2 Posizionare gli elettrodi sull'interfaccia dell'unità Collegare gli elettrodi al Trainer 2 e richiudere il coperchio. L'installazione dell'ID Plus Trainer 2 è ora completata. Ci sono alcune regole di base che si dovrebbero conoscere quando si utilizza l'ID Plus Trainer 2. Il telecomando, come il telecomando di un televisore, è sempre acceso e pronto per l'uso. Non c'è bisogno di accenderlo o spegnerlo. A differenza di un televisore, tuttavia, non è possibile utilizzare il telecomando per accendere il Trainer 2. Deve essere acceso prima premendo il pulsante di accensione on-off. Tutte le luci si accenderanno in sequenza e la luce verde dell'indicatore di stato rimarrà accesa. A differenza dell'ID Plus ad uso clinico, l'ID Plus Trainer 2 non ha una finestra di visualizzazione per un segno di spunta verde o una croce rossa. Ha invece due luci di indicatori di stato che si illuminano. Quando l'unità Trainer 2 è accesa e pronta per l'uso, la luce verde rimarrà accesa. Quando entrambe le luci di stato sono spente, il Trainer 2 non è attivo e la comunicazione tramite telecomando non sarà possibile. Il Trainer 2 si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Ogni volta che il Trainer 2 verrà messo in modalità pausa con il telecomando, la spia verde lampeggerà ininterrottamente. L'altra luce dell'indicatore di stato è rossa. Risponde a tutte le trasmissioni rilevate dal telecomando. Quando riceve un comando valido, lampeggia una sola volta per circa un secondo e il Trainer 2 eseguirà ciò che il comando ha richiesto. Se riceve un comando non valido, lampeggerà velocemente per tre volte e il Trainer 2 non accetterà il comando. Se si tenta di trasmettere un comando al Trainer 2 ma la luce russa non si accende, il telecomando potrebbe essere troppo lontano o non puntato direttamente verso l'unità. Il telecomando potrebbe non trasmettere oltre 10 metri. Inoltre, è in grado di trasmettere solo in un'area con angolazione di 15 gradi a sinistra e destra rispetto alla direzione in cui è puntato. Si può utilizzare un solo telecomando per controllare più unità del Trainer 2 ma devono essere posizionate a 15 gradi di distanza per poterle controllare autonomamente. Come potete notare, al posto del display digitale l'interfaccia dell'unità Trainer 2 ha una stampa, facsimile del display digitale che trovate sull'AED Plus ad uso clinico. Questo schermo è probabilmente lo strumento più importante per un utente AED Plus. mostra il numero degli shock ed il tempo trascorso da quando l'unità è stata accesa il testo che corrisponde al messaggio vocale maggiore compressione e l'indicatore di profondità che oscilla su e giù ad ogni compressione e mostra la profondità di compressione raccomandata dalle linee guida AHA-ERC. Gli utenti che vogliono avere un feedback real CPR per la frequenza e la profondità delle compressioni con l'AED Plus ad uso clinico dovrebbero usare il Trainer Travel oltre al Trainer 2. Osservate la linea orizzontale sul telecomando. I tasti sopra questa linea vengono utilizzati per selezionare e definire lo scenario di soccorso da eseguire. I tasti sotto questa linea vengono utilizzati per la gestione dello scenario una volta che il Trainer 2 inizi a funzionare. Iniziare sempre l'impostazione di uno scenario di soccorso premendo una volta solo il tasto centrale sopra la linea orizzontale nel telecomando. Dopo aver selezionato e definito lo scenario premere il tasto una seconda volta per trasmettere lo scenario al Trainer 2. Questo tasto si chiama tasto di visualizzazione e conferma perché quando si preme la prima volta è possibile visualizzare lo scenario scelto sul telecomando. Quando lo si preme la seconda volta il telecomando trasmette le impostazioni di scenario all'unità Trainer 2. Per essere sicuri che lo scenario sia stato trasmesso al Trainer 2 verificate che la luce rossa dell'indicatore lampeggi una volta sola. Alla prima pressione del tasto di visualizzazione e conferma le luci verdi mostreranno lo scenario attualmente impostato per 8 secondi. Mentre queste luci sono accese è possibile modificare con il telecomando le impostazioni dello scenario prima di trasmetterle. Scegliere lo scenario con il tasto di selezione Scenario. Ogni volta che si preme il tasto le luci verdi indicheranno un nuovo scenario. Gli scenari da 2 a 5 sono fissi. Le coppie di icone a fianco ad ogni luce indicano quale sarà il risultato della prima e la seconda analisi cardiaca in ogni scenario. Lo scenario 2 richiederà l'erogazione dello shock sia sulla prima che sulla seconda analisi. Lo scenario 3 non richiederà l'erogazione dello shock alla prima analisi, ma lo richiederà dopo la seconda analisi. Lo scenario 4 richiederà l'erogazione dello shock alla prima analisi, ma non lo richiederà alla seconda analisi. Lo scenario 5 non richiederà lo shock né alla prima né alla seconda analisi. Il primo scenario non è fisso ma manuale, il che significa che è possibile richiedere o non richiedere lo shock a seconda di come si intenderà procedere durante lo scenario. Il tasto metronomo RCP, a destra del tasto di visualizzazione e conferma, determina se il segnale acustico e l'invio di messaggi vocali del metronomo RCP è attivo se la luce è accesa o non attivo se la luce è spenta. Tenete acceso il metronomo RCP ogni qualvolta si fa una formazione con gli elettrodi CPR di Paz. Spegnetelo ogni volta che si fa la formazione con gli elettrodi StatPaz Training. Questo farà sì che il trainer 2 durante l'intervallo RCP agisca come l'AID Plus ad uso clinico con gli elettrodi StatPaz collegati, quindi ogni 15 secondi ripeterà. Al posto del metronomo e dei messaggi vocali, maggiore compressione e compressioni adeguate. Ora, supponiamo che si desideri eseguire uno scenario che presenta un soccorso andato a buon fine, usando gli elettrodi CPR di Paz, in cui l'analisi cardiaca indichi di erogare lo shock la prima volta e non la seconda volta, perché la vittima è stata rianimata. Premere il tasto Visualizza conferma una volta sola per riportare il telecomando in modalità impostazione. Selezionare lo scenario 4 con il tasto di selezione scenario. Premere il tasto del metronomo RCP per accendere il metronomo RCP utilizzato dagli elettrodi CPR di Paz. Lo scenario è ora impostato, ma solo nel telecomando. Puntare il telecomando verso il trainer 2 e premere il tasto Visualizza conferma una seconda volta per trasmettere lo scenario al trainer 2. La luce rossa dell'indicatore di stato lampeggerà una volta sola per indicare che il nuovo scenario è stato trasmesso e accettato dal trainer 2. Questo completa l'impostazione dello scenario. Il vostro trainer 2 continuerà a seguire questo scenario, fino a quando gli verrà trasmesso un altro scenario con il telecomando. Anche se si spegne l'unità e si cambiano le batterie, alla riaccensione si ripresenterà lo stesso scenario. Per eseguire uno scenario, iniziare premendo il pulsante ON-OFF per accendere il trainer 2. L'allievo inizierà lo scenario premendo il pulsante ON-OFF una seconda volta. Una volta che lo scenario è iniziato, l'istruttore può controllare l'andamento dello scenario utilizzando i sei tasti posti sotto la linea orizzontale del telecomando. Il tasto in basso a sinistra può essere utilizzato per mettere in modalità pausa uno scenario una volta che è in esecuzione. Controllare capacità di risposta. Premere il tasto modalità pausa una volta sola per mettere in pausa lo scenario. Spingere di nuovo il tasto per riprendere lo scenario. Aprire le vie aeree. Controllare respirazione. Il tasto in basso a destra può essere usato per fermare uno scenario che è in esecuzione o in pausa. Controllare capacità di risposta. Premere il tasto STOP una volta sola per fermare lo scenario. A differenza della modalità pausa, il tasto STOP riporta lo scenario all'inizio. Se ora l'allievo spinge il pulsante ON-OFF del trainer 2, lo scenario ricomincerà dall'inizio. I due tasti centrali possono essere utilizzati solo durante l'intervallo RCP, mentre il trainer 2 emette il BIP in uno scenario dove il metronomo RCP è attivo. Premere il tasto di sinistra una volta sola per far sì che il trainer 2 mandi il messaggio. Maggiore compressione. Premere il pulsante di destra una volta sola per far sì che il trainer 2 mandi il messaggio. Compressioni adeguate. Entrambi i tasti centrali possono essere utilizzati in qualsiasi momento durante l'intervallo RCP. Maggiore compressione. Ma in alcuni casi questi tasti non risulteranno validi e le loro trasmissioni verranno respinte dal trainer 2. Interrompere CPR. La luce rossa lampeggerà tre volte rapidamente. Il tasto Nessuno shock in alto a destra viene utilizzato quando si desidera che l'esito dell'analisi cardiaca successiva sia di shock non indicato. Può essere utilizzato solo durante uno scenario manuale e non durante uno dei quattro scenari fissi. Per impostazione predefinita in tutti gli scenari manuali, l'analisi cardiaca Non toccare il paziente. Analisi in corso. Indicherà sempre uno shock. Premere il tasto Nessuno shock una volta sola per forzare l'esito dell'analisi cardiaca successiva su shock non indicato. Shock non indicato. Iniziare CPR. Questo tasto è unidirezionale. Una volta che si è deciso che lo shock non è indicato, non si può tornare indietro. E far sì che l'unità Trainer 2 indichi l'erogazione dello shock. Una volta terminata l'analisi cardiaca, tuttavia, l'unità Trainer 2 ripristinerà automaticamente l'analisi successiva per indicare lo shock. Il tasto elettrodo in alto a sinistra viene utilizzato quando gli elettrodi sono stati collegati correttamente sul torace del paziente. In tutti gli scenari, quando il Trainer 2 manda il messaggio vocale Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Continuerà a ripetere lo stesso messaggio. Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente. Sino a che viene premuto il tasto elettrodi Per simulare il collegamento degli elettrodi E la rilevazione del ritmo cardiaco Il tasto elettrodi può anche essere utilizzato qualora un allievo dovesse collegare gli elettrodi al paziente Prima del dovuto, il che causerà un salto all'analisi Capacità di risposta Chiedere aiuto Aprire le vie aeree Controllare respirazione Non toccare il paziente Analisi in corso Nel corso di un'analisi cardiaca È possibile premere il tasto elettrodi Per simulare una cattiva connessione degli elettrodi al paziente Non toccare il paziente Analisi in corso Analisi interrotta Controllare elettrodi Premere il tasto elettrodi una seconda volta Per simulare la riconnessione degli elettrodi E la rilevazione di un ritmo cardiaco Non toccare il paziente Analisi in corso Ora rivediamo la simulazione di un soccorso completo Utilizzando l'ID Plus Trainer 2 L'istruttore imposta uno scenario manuale In cui verranno utilizzati gli elettrodi CPRD Paz E trasmette lo scenario al Trainer 2 L'allievo inizia lo scenario Unità ok Mantenere la calma Controllare capacità di risposta Chiedere aiuto Mi sente, mi sente? Chiamate il 118! Mantenere la calma Controllare capacità di risposta Chiedere aiuto Aprire le vie aeree L'istruttore mette in modalità pausa il soccorso Per discutere le azioni dell'allievo eseguite finora E poi riprende lo scenario Controllare respirazione Collegare elettrodi defibrillazione al torace nudo del paziente Collegare elettrodi defibrillazione Non toccare il paziente Analisi in corso Non toccare il paziente Analisi in corso Shock indicato Non toccare il paziente Premere pulsante shock lampeggiante Shock erogato Iniziare CPR L'istruttore stabilisce che l'allievo non sta spingendo abbastanza profondamente Maggiore compressione L'istruttore stabilisce che la profondità delle compressioni è adeguata Compressioni adeguate E che lo scenario è completato La classe è pronta per passare ad un altro scenario Con questo si completa la formazione dell'ID Plus Trainer 2 Per ulteriori informazioni Consultare il manuale dell'operatore fornito con l'ID Plus Trainer 2 O contattare Zoll Medical Italia